Sono sicuro che hanno senso per le streghe. Ah, che tragedie! Valdur è stato il più grande dono di Odino a Freya, l'unica cosa del loro matrimonio a cui tenevano. Voleva risparmiare a lui il dolore e a se stessa la perdita, ma impulsi simili spingono i genitori a prendere decisioni terribilmente stupide. Odino e Freya potevano essere felici, ma lui voleva solo la sua magia. Già. La magia dei Vanir lo portò a nuovi esperimenti e nuove forme di depravazione. La magia dei Vanir lo portò a nuovi esperimenti e nuovezza. D'accordo. La magia dei Valeri è la quattro. Cosa c'è laggiù? 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 Cosa... Cosa c'è laggiù? 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 E' laggiù? E' fatta. E' fatta. Che cosa fai? Non ho più niente da nascondere. Possiamo andare. Siamo vicinissimi. Ragazzo. Portala tu. Ragazzo. Non è niente. Credevo solo di sentire le voci. Ehi, c'è nessuno. Che posto è questo? Saranno passati di qui quando lasciarono Midgard. Odino e Thor hanno rovinato la vita a tutti. Ah, chi è il guardiano? Dovrei sentirli. Invece no. Questo posto è deserto. Che è successo? Perché mamma ci ha mandati qui? Trovo una risposta e sorgono altre due domande. Aspetta! Padre! Sta accadendo qualcosa! È la tua ascia. È mia madre. Guarda. Discute con un gruppo di giganti. Lei conosceva i giganti. Siamo noi. Quando abbiamo incontrato il serpente del mondo. Ma come... È la battaglia con Balbo. Ma è appena accaduto. Cioè... Sapevano tutto quello che sarebbe successo. Il drago sulle montagne. Il gigante muratore. Tutti questi disegni. Questa è la nostra storia. No. Questa è la tua storia. Ma... Che significa? Che non ero l'unico genitore con dei segreti. Non lo sapevi. Se era un gigante. Io sono un gigante. Perché non ce l'ha detto? Lei ci ha mandati qui per farci scoprire questo. Ma... Perché non ci ha detto la verità? Avrà avuto le sue ragioni. Valdor non è mai stato sulle mie tracce. Stava cercando sempre e solo lei. Senza sapere che era solo cenere. Se aveva un piano per noi... Mi fido. Qualunque esso sia. E poi... Finora ha avuto ragione. Andiamo. Siamo vicini alla meta. Sì. Sì, ci siamo. Sì. Sì.